Caorsano, Paga e Tasi. Con questo provocatorio gioco di parole, l'opposizione consigliare di Caorso, nella bassa piacentina, attacca frontalmente la liquota della Tasi, la nuova tassa per i servizi indivisibili, approvata dalla maggioranza di centrodestra che governa il Paese. Il Consiglio Comunale, infatti, ha approvato la liquota massima, ovvero il 2,5 per mille, un record raggiunto in provincia di Piacenza solo dai Paesi di Caorso, Luganiano, Agazzano, Borgonovo e Caminata. Una scelta fortemente contestata dai gruppi di minoranza che si chiedono come mai Caorso, nonostante abbia ricevuto 18 milioni di euro per le compensazioni nucleari, abbia deciso di spremere così tanto i suoi concittadini. Se questa amministrazione negli anni passati avesse utilizzato i soldi che sono entrati dallo Stato, grazie appunto all'insediamento dell'impianto nucleare di Caorso, per degli investimenti produttivi, probabilmente oggi il cittadino caorsano poteva non pagare la Tasi. Questo facendo due esempi di come si potevano utilizzare questi soldi, ad esempio per poter far fronte alle spese dell'illuminazione pubblica con degli interventi di fotovoltaico che potessero diminuire questi costi, oppure investendo queste risorse in appartamenti per agevolare anche le giovani coppie e gli introiti degli affitti di questi locali potevano essere utilizzati per aumentare le entrate correnti. Quindi di conseguenza oggi siamo nella situazione dove il Comune ci fa pagare la Tasi perché mancano le risorse che chiaramente lo Stato non ci dà più. È vero che lo Stato ha diminuito il trasferimento di fondi ai Comuni, dando loro la possibilità di applicare la nuova tassa fino ad un massimo del 2,5 per mille sul valore catastale degli immobili. Ma è anche vero che con una politica volta al risparmio, con investimenti per produrre reddito e facendo attenzione agli sprechi si poteva anche non far pagare la Tasi ai Caorsani o quantomeno applicare una liquota decisamente più bassa. Questo infatti è quello che ci siamo chiesti e anche in Consiglio Comunale abbiamo chiesto all'amministrazione di rivalutare un attimino questa tariffa proprio perché la difficoltà ce l'hanno tutti i Comuni, ma tanti Comuni, 36 addirittura, hanno applicato una liquota inferiore a quella massima. Per cui riteniamo che con una politica volta alla ricerca degli sprechi, a una maggiore verifica di quelle che sono le spese correnti, probabilmente si poteva risparmiare qualcosa e quindi non tassare i Caorsani con questa liquota massima.